Oggi vi porto alla scoperta di un filone cinematografico diffuso in Italia tra gli anni 30 e 40, ovvero il cinema sportivo, e vedremo in particolare il film Il Campione, diretto da Carlo Borghessio nel 1943. Uno dei principi fondamentali esaltati dalla cultura fascista era certamente il culto del corpo e dell'attività fisica. Ci sono tra gli anni 30 e 40 delle interessanti incursioni del mondo sportivo nel cinema dell'epoca, ed una delle attività sportive più praticate dal cinema fascista era certamente il pugilato. Non a caso in Italia avevamo uno dei più grandi campioni italiani e mondiali, ovvero Primo Carnera. Anche lui già dai primi anni 30 si era dato al cinematografo. Infatti nel 1933 interpreta in America un film che si intitola L'idolo delle donne, e a partire dal 1939 anche tutta una serie di film in Italia, in ruoli secondari di uomini forzuti, in film come Traversa nera, La corona di ferro, La figlia del corsaro verde, e poi nel ruolo di se stesso nel film Harlem di Carmine Gallone, che descrive molto bene quello che era l'ambiente del pugilato dei primi anni 40. In concomitanza con l'uscita del film di Gallone esce nella primavera del 1943 il film Il Campione, diretto da Carlo Borghessio, un regista ricordato soprattutto per aver diretto i più importanti e i più interessanti film di Erminio Macario. Il film viene girato a Torino, negli stabilimenti Fert, che erano questi grandi stabilimenti cinematografici già nati all'epoca del cinema muto, e viene girato tra l'autunno del 1942 e l'inverno del 1943. È una pellicola che porta sullo schermo due ex pugili molto importanti. Da una parte abbiamo Erminio Spalla, che era stato campione europeo di pugilato durante gli anni 20 e appassionato di spettacolo e di canto, si dilettava nel canto lirico ed era amico di Beniamino Gigli ed Enrico Caruso. All'interno del film Il Campione, tra l'altro vedrete appunto un estratto dove proprio canta. A proda al cinema nel 1939, grazie a Mario Bonnard, che lo dirige nel film Io suo padre, dove interpreta appunto proprio il padre del titolo, che riesce a far diventare un campione il proprio figlio. Gira poi tutta una serie di film, sempre prodotti dalla scalera film di ambientazione veneziana come Il Ponte dei Sospiri, Il Bravo di Venezia, I Due Foscari, e sarà uno dei pochi attori che dopo la caduta del fascismo deciderà di rifugiarsi al nord, al cinevillaggio di Venezia, e qui interpretare alcuni film, come ad esempio Senza Famiglia di Ferroni. Il ruolo del protagonista invece è assegnato a Enzo Fiermonte, altro ex pugile che aveva combattuto sia in Italia e anche in America, si era ritirato in maniera prematura nel 1932 a solo 23 anni dal mondo del pugilato e poi rientrato in Italia nel 1937 era diventato un pilota da automobili da corsa della Maserati. Nel 1941 viene notato dal regista Piero Ballerini che lo vuole protagonista per il suo film L'Ultimo Combattimento, una pellicola quasi autobiografica alla quale lo stesso Fiermonte collabora per la stesura del soggetto. Con questo film si apre la sua carriera di attore, viene definito il bello del ring grazie alla sua prestanza fisica e interpreta quasi tutti i ruoli in film d'avventura come Fra Diavolo del 41 di Luigi Zampa oppure Il Mercante di Schiave del 1942. Nel 1943 interpreta il ruolo di protagonista nel film appunto di Borghesio Il Campione e qui come ricorda collaborò anche alla stesura del soggetto del film perché quando fu ingaggiato per questa interpretazione secondo lui il racconto non aveva degli elementi tipici dell'ambiente sportivo e per cui ci rimette mano e ne stende quello che è il soggetto poi dell'attuale film. La sceneggiatura invece è curata dal regista stesso e da Tommaso Smith che è un personaggio molto importante per la cultura italiana del tempo, politico, giornalista del messaggero, commediografo, sceneggiatore, direttore della famosa rivista satirica Il Marco Aurelio dove Federico Fellini abbozza le prime vignette e anche cognato del regista Guido Brignoni. Qui collabora alla sceneggiatura, è abbastanza singolare trovare il suo nome nei titoli di testa del film perché appunto era socialista e le persone comunque antifasciste oppure che erano ebrae non comparivano mai nei titoli di testa e lavoravano ai vari film in maniera segreta. Il film alla sua uscita non ebbe il successo sperato, secondo l'attore appunto Fiermonte era colpa principalmente del regista che non aveva saputo trattare alla dovuta maniera appunto la storia raccontata all'interno del film e Fiermonte dopo altre interpretazioni durante gli anni 40 nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra nel 1946 passa anche alla regia con il film L'Atleta di Cristallo. Realizza appunto questa pellicola che probabilmente era una storia melodrammatica ambientata nell'ambiente del pugilato, si tratta del secondo film realizzato in Puglia nel dopoguerra ed è una pellicola purtroppo al momento andata perduta. Il campione di Carlo Borghesio per cui è un film che descrive bene quello che era l'ambiente del pugilato dell'epoca e che segna appunto questa alleanza sullo schermo tra il pugilato e il cinema.